Ciao a tutti, bentornati su Frontiere Proibite. Prima di iniziare questo nuovo episodio, un piccolo e breve annuncio. Avrete sicuramente notato il piccolo banner che si trova adesso in sovrimpressione. Già da qualche giorno, infatti Frontiere Proibite, è entrato in partnership con il Giornale dei Misteri, il famoso e direi mitico giornale che già a partire dal 1971 ha iniziato a seguire, consigliare e fare compagnia a tanti ricercatori o semplici curiosi o comunque appassionati dei misteri. Il Giornale dei Misteri quindi con Frontiere Proibite, mi raccomando, cercatelo sui social. È una rivista davvero interessante, di grande approfondimento. Ma veniamo a noi. Spesso Frontiere Proibite si è occupata dell'antico e misterioso popolo dei Sumeri. Questa volta abbiamo cercato di andare ancora più a ritroso nel tempo, chiedendoci quali siano le origini dei misteri, dei culti, delle credenze, dei miti dei Sumeri. Abbiamo quindi cercato di percorrere gli antichi sentieri della Mesopotamia alla ricerca di quanto e cosa accadeva ancora prima dei Sumeri. A tra poco. Qual è la più antica civiltà del mondo? La risposta a questa domanda, in quasi tutte le scuole e tutte le università, sarà sempre la stessa. L'Egitto dei Faraoni e le antiche culture della Mesopotamia sorte intorno al 4000-3000 a.C. Si tratta di una risposta quasi scontata, così come viene dato per scontato indicare ad esempio l'Africa come la culla dell'umanità. Ma sarà effettivamente così? Non esiste alcun dubbio sul fatto che quella dei Sumeri sia una delle più antiche civiltà conosciute. Ma vi siete mai chiesti cosa ci fosse prima di loro? Quali furono gli scenari che portarono a quella civiltà che oggi tutti noi conosciamo e studiamo? La storia ci insegna che circa 6000 anni fa, sia in Mesopotamia che nell'antico Egitto, ma probabilmente anche in Siria, iniziarono a formarsi le prime città-stato, città che in seguito svilupparono le prime forme di scrittura e le prime grandi religioni. Questo, alla luce delle nostre attuali conoscenze, è un dato di fatto. Ma sappiamo anche che difficilmente tutto ciò avviene dal nulla, senza alle spalle un background che in seguito venga ripreso, reinterpretato e rivisto. Ritorniamo quindi alla domanda iniziale. Cosa c'era prima dei Sumeri? Stiamo per entrare in uno scenario caratterizzato da antichi misteri. Uno scenario ancora oggi quasi tutto da esplorare. Ci troviamo intorno al 6000 avanti Cristo e ci stiamo muovendo nella parte più meridionale della Mesopotamia. A nord il territorio sul quale sorgerà in seguito l'odierna Baghdad, ad est i monti Zagros, a sud-ovest Badiat al-Sham, il deserto di Badia, meglio noto come deserto arabo-siriano. La pianura alluvionale mesopotamica favorì i primi insediamenti dediti all'agricoltura e sorti intorno al 4000-3500 avanti Cristo. E proprio intorno al 4000 avanti Cristo, leggenti dalle teste nere i Sumeri, vivevano già a nord, sui monti Zagros. La stessa gente che poi, intorno al 3500 avanti Cristo, avrebbe occupato la bassa Mesopotamia. Come avrete notato, sono stati citati per ben due volte i monti Zagros. E questo certo non a caso. e chi ha avuto modo di seguire i primi episodi di Frontiere Proibite, sicuramente in questo momento sta iniziando a ricollegare questa informazione. Per chi si fosse di recente iscritto al canale, vi invito a vedere l'episodio numero 14, Gli dèi con le ali, nel quale si parla proprio dei monti Zagros e di un misterioso ritrovamento. Rivediamone insieme un breve spezzone. Sul finire degli anni 50, Ralph e Rose Soleki si trovano in Kurdistan, ai piedi del monte Zagros, nei pressi di Sanidar o Shanidar. E sarà proprio in una grotta che i due paleontologi armeni faranno una scoperta che potrebbe cambiare il nostro modo di leggere e interpretare la storia. Dopo aver scavato ben 16 livelli di insediamenti umani, i due paleontologi rimangono stupiti nell'osservare centinaia di ali di uccello pietrificate, tagliate ritualmente e sepolte sotto quello che sembra essere un antichissimo altare. Si scoprì in seguito che altri ritrovamenti erano stati effettuati sempre in quella zona, sia in alcune grotte nel Kurdistan che in altre grotte, ma in Galilea. Esisteva quindi una connessione tra le cose, ma quale poteva essere? La risposta forse si trovava nella valle che ospita la zona rocciosa laddove si apriva la grotta. In questa stessa valle infatti scorre un fiume, lo Zab Maggiore. Cerchiamo di ricapitolare. Intorno al 4000 a.C., leggenti dalle teste nere i sumeri, vivevano già sui monti Zagros, gli stessi monti nei quali vennero ritrovati i resti di un antichissimo rituale, resti datati circa 10.870 anni fa, ma soprattutto resti che sembrano testimoniare un evento forse non di questo mondo. A chiudere il cerchio, il fatto che in quella zona scorre lo Zab Maggiore, uno dei quattro fiumi del paradiso terrestre, ma anche il luogo nel quale, si narra, nella notte dei tempi scesero i Veglianti. Come se ciò non bastasse, i Veglianti venivano anticamente raffigurati nell'iconografia con sei ali di rapace sulla schiena. Si trattava forse degli angeli ribelli, coloro che disobbedirono e scesero sulla terra per corrompere l'umanità? Perché più di 8000 anni fa si sentiva il bisogno di perpetuare questo ricordo? Forse per ricordare un evento realmente avvenuto? Ottenute queste informazioni è a questo punto lecito pensare che le figure alate sumere, quelle che in seguito passarono nei racconti biblici e dai quali deriverebbero le iconografie angeliche, provengano proprio dai monti Zagros. I libri ci raccontano che i popoli che abitavano a nord dei monti Zagros ad un certo punto della loro storia decisero di separarsi. Alcuni rimasero, altri migrarono e formarono in seguito la civiltà dei sumeri che tutti noi oggi conosciamo. Ma cosa spinse questi ultimi a lasciare le terre fertili nelle quali vivevano per insediarsi in un terreno paludoso? Non conosciamo il motivo di questa decisione, ma dobbiamo supporre che la parte di popolazione che si stabilì in Mesopotamia portasse con sé gli stessi ricordi e le stesse tradizioni di coloro che invece rimasero. Le notizie in merito al passato di questo popolo dovrebbero quindi essere contenute nei testi, nella religione e nella mitologia oggi conosciuta dei sumeri che si stabilirono in Mesopotamia. Ma in realtà questo non facilita le cose, anzi, le complica ulteriormente. La lista reale sumerica è di certo uno dei reperti più importanti tra quelli scoperti in Iraq. Un affascinante mistero, scritto in lingua sumera, che riporta il re delle dinastie sumere e dei popoli vicini, insieme alla durata dei loro regni. Si tratta, tra le altre cose, di un reperto unico in quanto nella lista figurano re antidiluviani e forse mitici insieme a re storici, ufficialmente esistiti. Ovviamente, visto quanto detto in precedenza, dovremmo trovarci di fronte ad uno scenario che in qualche modo dovrebbe dipingere un popolo dedito all'agricoltura. Ma in realtà non è così. La sequenza dei regnanti disegna invece lo scenario di un popolo molto diverso, che ebbe importanti contatti con dimensioni non di questo mondo e che conservò questi ricordi, passati in seguito alla mitologia sumera che oggi conosciamo. Ovviamente, è inutile far notare, lo avrete sicuramente già intuito, come i resoconti della lista dei re sumeri somiglino incredibilmente ai racconti della Genesi, compresi i tempi lunghissimi durante i quali regnò ognuno dei sovrani. La prima lista, ad esempio, menziona otto re che regnarono per un periodo di circa 241.200 anni. Un periodo ben identificato da chi trascrisse la lista dei re sumeri. Un periodo durante il quale, come si legge testualmente, da quando i re discendevano dal cielo e quando il diluvio inondò la terra, e poi di nuovo quando il potere sovrano veniva dal cielo dopo il diluvio. Ma esistono delle prove che in qualche modo possano confermare quanto scritto nella lista dei re sumeri? In effetti una prova esiste, e riguarda proprio uno dei re elencati nella lista, il fondatore della terza dinastia dopo il grande diluvio. Sir Charles Woolley, archeologo britannico noto per i suoi scavi nella città di Ur, ritrovò un antico tempio dedicato alla dea Nin Kursag, la signora della montagna sacra, antica dea madre sumera della fertilità, moglie di Enki, che secondo la tradizione dedicata agli Annunnaki, creò insieme al marito la razza degli uomini lavoratori. Enki, in seguito, verrà riproposto nella Genesi come il serpente dell'Eden. All'interno del tempio venne rinvenuta una goccia d'oro con inciso il nome del costruttore, un uomo chiamato A. Annie Paddi. Sul momento, Woolley non diede molta importanza a quel nome, ma poche settimane dopo fu costretto a ricredersi. Scavando, infatti, nelle fondamenta, venne alla luce una tavoletta di pietra calcarea con incisi dei nomi in caratteri cuneiformi. Si trattava di una dedica del tempio fatta da A. Annie Paddi, re di Ur, figlio di Mes Annie Paddi, re di Ur. Il nome di Mes Annie Paddi, infatti, è chiaramente indicato nella lista dei re sumeri come il fondatore della Terza Dinastia dopo il Grande Diluvio. Woolley, in pratica, aveva ritrovato la prova archeologica alla quale accennavamo prima. Adesso non ci rimane che ritornare all'interrogativo sottinteso nel titolo di questo episodio. Chi o cosa c'era prima dei sumeri? Quali sono i misteri, ma soprattutto qual è l'origine dei misteri che ancora oggi avvolgono questo antichissimo popolo? I sumeri, ma sarebbe meglio dire i Kiengira, o Kinjir, dal nome del loro paese, Kin-en-ji, erano il risultato della fusione di varie popolazioni provenienti dall'area del bacino dei Carpazzi fino al lago Balcas, nella Mesopotamia meridionale, con le popolazioni autocne appartenenti alla cultura protostorica di Al-Ubaid. Ovviamente vi starete chiedendo perché li conosciamo con il nome di sumeri. Si tratta di un etnonimo introdotto nel 1869 nello scenario riguardante gli studi sulla sirologia dallo scienziato e archeologo tedesco naturalizzato francese Jules Hopper e diventato ormai di uso comune. Gran parte delle loro conoscenze, secondo la storiografia ufficiale, furono il risultato di un'attenta osservazione del cielo e della natura, ma anche dell'ascolto del sacro suono, quelle note che risuonano in maniera eterna e costante nell'universo e nelle quali si manifestano l'ordine e lo spirito universale. Ma da dove deriva questo concetto? Esistevano forse altre culture precedenti? Culture in possesso di ricordi e informazioni che probabilmente non erano di questo mondo? Ritorneremo presto a parlare dei sumeri. Lo faremo con un lunghissimo episodio dedicato all'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh. Intanto io debbo passare ai saluti, in quanto questo episodio di Frontiere Proibite è giunto al termine. Come sempre, se vi è piaciuto il video, vi invito ad iscrivervi al canale e iscrivendovi a cliccare sulla campanella. Se vi fa piacere vi invito a lasciare i vostri like, i vostri importantissimi commenti. Noi come sempre ci rivediamo mercoledì prossimo, come sempre alle 14.30, per un nuovo mistero da indagare, una nuova frontiera da varcare. Grazie per avermi fatto compagnia. Ciao a tutti. Grazie per aver guardato il video.